Presidente Iozzia, Presidente della Barichelliana, questa Albi Celeste non gira, non ci sono persone nei ruoli giusti o forse c'è un esubero di persone? Presidente, come possiamo cambiare a questo problema? Che sta trascinando la squadra in bassi fondi della classifica. Perché ha visto la partita stasera, dovremmo tagliarla a testa qualcuno. E chi secondo lei è imputabile di questa sconfitta amara dell'Albi Celeste? Come Presidente non mi piace fare dei nomi, si vince tutti quanti insieme, si perde tutti quanti insieme. Si poteva benissimo vincere, era una partita abbordabilissima. Il nervosismo ha preso il sopravvento su tutti. Comunque l'assenza dell'attaccante, non facciamo quel nome, tutti lo conosciamo, pesa indiscutibilmente sul bilancio di questa squadra. Lo possiamo fare il nome, il bomber muni deve tornare per forza, abbiamo necessariamente il bisogno del nostro bomber. C'è anche un intervento del mio collega. Si no, si sta riaprendo come sappiamo il mercato di riparazione, avete già individuato degli ottimi elementi? Come avete visto stasera è tornato Alessio Russo, è venuto stasera a vedere la partita ma ci ha promesso che da gennaio sarà a nostra disposizione per tutto il resto del campione. Io adesso sto andando negli States per visionare qualche talento, farà una capatina a Miami? Si per l'attenzione che c'è un attimo allenatore lì a Miami, speriamo che vada in posto. Le auguro di trovare quello che ha trovato. Grazie, una buona sera.